Certo che è un perirla così, dai! Sì, ma questo era il prosciutto, però l'avranno trovato gli altri. Ma te lo do io il prosciutto! L'equivoco veniva così chiarissimo. La vicenda del falso rapito, Maramotti o Sperandio, si è pertanto risolta inaspettatamente con un lieto filo. Uffa, quanto la stanna fa lunga! Cambia un po' il canale! Che per gioco hanno fatto irruzione in... Pippo! T'ho detto, devi cambiare il canale per piacere! E vedi se c'è qualche cosa di più interessante! Passaggio segreto. Mi avete uccisa e vi sentite più forti per... Ah, meno male, questo sì che mi piace tanto! Guarda qua, pare che è diventato l'eroe nazionale! Sto debosciato! Tutti dilussi! Pure rapimento in Sardegna! Ma che te sei perso un tre? Venite, venite! Non fate caso al disordine! I signori sono venuti per farci le fotografie, per pubblicarle su Sorrisi e canzoni! Vado ancora la fotografia! Tutti a posta! Tutti a posta! Viti, ci auguriatevi! Viti! Forza, fai una fotografia a Pippo con la moglie! Allora, te lo attaccate! Aspettate che mi metto un po' Stai! Ah, e perché? Pippo, con la goglianata! Ve butta! E perché Pippo con il cognato non ce la fa la foto? Ecco i nipotini adorati Basta, non avete stupato tutti, andate venne via, nipotini da merda Togliate la merda, fotografi da merda, via, televisione da merda Vino, Vino, Vino Fuldina di merda, via, via, fuldina di merda Va insieme alla merda con gli altri, via, via Erano 12 anni che lo volevo fare, praticamente dal viaggio de nozze Speriamo che non sia un sogno